Una ragazza di Varallo Pombi ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale accaduto qualche minuto dopo le 7, lungo la strada regionale 229 del Lago d'Orta, nel comune di Vaprio. Si chiamava Alessandra Caterina Rubbino, 33 anni, era diretta verso Novara alla guida della sua Ford Fiesta quando si è scontrata frontalmente con una Mercedes che procedeva nel senso opposto. Alla guida di quest'auto, un 65enne di Galiate che si recava al lavoro, La donna, per le gravi ferite riportate, è deceduta durante il trasporto su un'ambulanza del 118. Vana, infatti, è stata alla corsa verso l'ospedale maggiore della Carità di Novara. La Rubbino abitava da sola in via Madonna, nei pressi del santuario di Varallo Pombia, e non era sposata. I rilievi sono stati effettuati da due pattuglie della polstrada di Arona, mentre i colleghi di Borgomanero si sono occupati della viabilità. Gli agenti stanno vagliando la dinamica. La strada è stata chiusa al traffico su ambi sensi di marcia sino alle 11, creando molti disagi alla viabilità. La ragazza lascia i genitori e il fidanzato.